Oh 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 oh, che sorpresa! Welcome back, começo mai! ?". Eh одно, è tornato, è tornato il surf &-man! benvenuti e buona estate a tutti dal magapino siamo ancora qui ci siamo ritrovati con un mese non ci si vede si ha una voglia di inculassi non si vede l'ora un pochina, non tanta facciamo outing il magapino veramente fino a un tempo fa si promuoveva del materiale è una cosa materiale puramente sessuale non c'è sesso senza amore ricordate qua che fanno che hai fatto? sei andato nella torre a festeggiare no, va detto io non so che la torre che ci conviene? ha capito che vuol dire basta con questo se non vinci la tua contrada non festeggi vai a festeggiare anche le altre contrade stacca un secondo però ci sforma mi ha detto una cosa per chi ci segue sempre è stato dato via il double duggle nooo ai nostri amici il double duggle giardino e giamaia è stato dato il double duggle vieni vedi non c'è più tanto devo fare una marchetta perché siamo qui a fare il magapino con la nostra gopro hero 4 silver edition gentilmente perché devi passare il commerciale vabbè bisogna ringraziare perché noi facciamo questi video grazie a atena evolution che è l'importatore ufficiale gopro per l'italia che ha anche molti altri prodotti ojo per i bagagli ojo v46 la linea di valentino rossi occhiali tom tom cardio cosi frequenzione di tutta roba che è proprio utilissima il magapino l'hanno pagato quello che vorremmo proprio aprire noi è che la gopro non è soltanto per sport estremi ma anche per cazzate estreme e noi siamo dimostrazioni ma non si fa anche sport estremi se è per quello ma ascolta passiamo alle cazzate estreme che ci riescano meglio che ci è rimasto dopo il double duggle ci sono rimasti delle semplici single one di si come si diceva la rete in inglese il forestiere net net si però non c'entra niente la rete è a letto single net single net ah net rete e net quando fa net nel tennis grande torna tutto perché dicono net quando la pallina tocca la rete come mai non sa di bene in inglese da quanto linguistico ci sono rimasti le semplici single net single net vari modelli e vari materiali iron in wood iron wood wood nature cioè nature bravo nature questa è la versione come si chiama ilva classica no attenzione aspetta no questo ho sbagliato oh no un errore questo è un di aspetta un attimo questo è un vabbè ascolta castle bed eccolo oh castle bed questo è letta a castello perché questo è letta a castello a fare castle bed allora ci avessi finire anche prima passiamo ai alla roba nuova perché ci sono la novità tanti arrivi perché questo è al sardegna falpotta falfrosion sardegna guarda sono stavo in giro più in questo video sono stato in sardegna a serfa sono stato poi a serfa a serfa a serfa a serfa a serfa a serfa su l'under 2 sono stato a lisbona insomma non usare ora magapino che fa la tua pubblicità io mi ho fatto pubblicità sto raccontando a te non ci si vede da un po' c'è sta c'è questo oh questo come lo vogliamo chiamare che questa ora la puntata inizia a essere un po' lungotta eh ragazzi ma c'è troppa carne al fuoco c'è troppa carne al fuoco too much meat on the fire troppa carne al fuoco shot and win shot and win shot and win eccolo shot and win ragazzi attenzione perché è funzionale senti eh incredibile ecco che ha detto senti eh dovrebbe vabbè questo si stacca vabbè basta abbia le file vai vai uno li abbia le file e quello quando te fa senti player one vuol dire giocatore uno vai gio vai vai bella storia aspetta ma non è che lo devi rompere smetti di far bimbo ma non si fa perché ci sono ci sono ci sono tanto materiale utile ma ci sa anche l'alzare parliamo delle novità queste novità estate 2015 ma capito questo è fresco fresco questo è fresco fresco chiamiamolo fresh and fresh è vero perché c'era due quindi fresh and fresh questo è fresco di stamattina eh continua continua guarda me questo guarda me questo mobile da bagno questo mobile da bagno guarda con il filo filo per la corrente elettrica perché la corrente elettrica e la corrente è forte dai vieni qui chi prende il magapino chi guarda il magapino pericolo di morte vai a riprendere lì è una meraviglia è una meraviglia ci sono i mobilini con il giacco va bene va bene eh ormai questo è andato va bene comunque guarda questo è fresco fresco c'ha due scompartimenti per metterci tutti i medicinali naturali omeopatici ovviamente cioè se no non si apre lo sportello lo specchio come hai detto fresco 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 bene dai ascolta chiudiamola qui per cazzo però ci sono tante altre cose adesso vediamo anche le altre cose poi torneremo di estate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti